Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Un ultimo video prima delle agognate vacanze estive lo volevo dedicare all'argomento che ha iniziato e che ha aperto la collaborazione tra me e te su questo canale, ovvero quella dello stadio di proprietà. Cominciamo subito col dire che non ci sono novità di rilievo in merito, ma volevo fare un punto di situazione sulla realizzazione dello stadio da parte del Presidente Lotito e fare un parallelismo con quello che sta capitando anche in altre realtà. Il progetto stadio di proprietà lo titolo avviato nel 2005 quando si è visto poi bocciare in Commissione Servizi il progetto di realizzazione di uno stadio e di 18.000 unità abitative sui suoi terreni di via di Tiberina. Progetto che la Commissione Servizi ha bocciato per due ordini di motivo. Il primo era che la realizzazione dello stadio di proprietà più delle unità abitative avrebbe obbligato il Comune di Roma alla realizzazione di opere urbanistiche nell'area in un terreno che ha problemi da un punto di vista idrogeologico essendo al di sotto del livello del Tevere. Il secondo problema che era stato avanzato in Commissione Servizi era che il progetto globale non faceva riferimento a un fondo di investimento piuttosto che a un istituto bancario ma a un singolo imprenditore che se avesse avuto problemi nel corso della realizzazione del progetto avrebbe lasciato poi di fatto la realizzazione di un'opera incompiuta dove il Comune di Roma comunque aveva già avviato delle opere di urbanizzazione. Successivamente il Presidente Lodito ha provato anche a rilevare lo stadio Flaminio per poterlo riqualificare su una progettazione che doveva portare poi alla realizzazione di uno stadio da 50.000 posti tutto coperto all'interno del cuore della città di Roma. Progetto che sappiamo tutti ha cozzato contro quattro vincoli che gravano sulle infrastrutture ed in particolare il vincolo culturale che lega lo stadio da un punto di vista ereditario alla famiglia Nervi e che impone la ristrutturazione eventualmente dell'opera ma mantenendo lo stadio architettonico in cui versa e quindi impossibile secondo quelle che sono le richieste e le esigenze della SS Lazio. L'assessore allo sport, grandi eventi, turismo e moda di Roma, Dottor Onorata, aveva detto che avrebbe atteso il progetto della Lazio entro il 31 dicembre del 2022 dopodiché avrebbe dato eventualmente credito ad altri interessati alla riqualificazione dello stadio uno su tutti il progetto fantomatico di cassa depositi e prestiti che però allo stato attuale ancora nessuno ha mai visto e mai presentato. al Comune di Roma. Ma non è soltanto la Lazio ad avere problemi, anche la Roma ha problemi. Ha dovuto abbandonare il progetto nel 2021, il progetto che aveva ideato la precedente proprietà, quella di Pallotta che doveva far vedere sorgere lo stadio sui terreni di Tordivalle, dove sorge adesso l'ippodromo di Tordivalle. L'abbandono del progetto ha portato alla ribellione dei comitati di quartiere che avevano già ottenuto da parte del Comune di Roma la promessa per quanto riguarda il potenziamento dei trasporti e della viabilità della zona, problema annoso dei quartieri che sorgono intorno all'ippodromo di Tordivalle. E non solo, c'è stato anche un ricorso al tarre contro Pallotta presentato da quelle società che direttamente o indirettamente erano già state coinvolte nel progetto e che avevano avviato un processo di assunzione da parte di personale. Adesso la proprietà Fredkin sta provando a realizzare l'opera sui terreni del Comune di Pietralata ma anche lì sono insorti i comitati di quartiere in quanto è risultato, da quello che noi sappiamo, un problema riguardante la proprietà ovvero è stato presentato dai comitati di quartiere di Pietralata un ricorso al tarre perché da quello che si evince dalle carte sui terreni espropriati dal Comune su Pietralata e destinati a pubblico utilizzo dovrebbe sorgere invece una struttura di proprietà del gruppo Fredkin che tale rimarrebbe pertanto ad uso privato. Per poter dirimere la questione che quindi ha un fondamento di problema il Comune di Roma il 7 settembre ha indetto un processo partecipativo ovvero una commissione ha riunito un tavolo all'interno del quale sederanno tutti gli eventi causa quindi il Comune, la famiglia Fredkin, sederanno anche i comitati di quartiere per poter cercare di smussare quelli che sono gli angoli e poter vedere se ci sono le condizioni per poter andare avanti nella realizzazione dell'opera prima che si esprima poi il tarre che molto probabilmente ci si attende un giudizio negativo e quindi a favore dei comitati di quartiere. Ma anche la Fiorentina ha problemi perché nonostante abbia vinto ricorso al tarre presentato contro le associazioni che anche in quel caso tutelano i diritti ereditari della famiglia Nervi in quanto il progetto di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze ha un impatto sicuramente minore rispetto a quello che il Presidente Lutito vorrebbe per lo stadio Flaminio ebbene nonostante abbia vinto ricorso al tarre sono state indette delle gare per assegnare gli appalti della ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi che dovrebbe diventare lo stadio di proprietà della Fiorentina ma fino adesso le gare sono andate tutte quante deserte. Intanto il Comune di Firenze ha già chiesto al Governo di poter reinserire nel piano urbanistico integrato la ristrutturazione del piano dello stadio di Firenze per poter ottenere così anche i fondi contrariamente a quello che si era tentato di fare precedentemente ovvero quello di inserirlo nel PNRR che è il piano nazionale di resilienza che era stato presentato per le problematiche connesse al Covid e ricevere dei fondi a livello europeo che ovviamente non hanno senso per la ristrutturazione di uno stadio di calcio ma è recente anche la notizia che il Comune di Milano ha bocciato il piano di ristrutturazione di San Siro di Inter e Milan che insieme avevano coordinato l'abbattimento per poi la creazione di uno stadio che doveva essere lo stadio di Inter e Milan dicendo che lo stadio di San Siro non può essere abbattuto sempre per vincoli culturali e pertanto Inter e Milan che sono obbligati a cercare di realizzare in maniera indipendente lo stadio probabilmente su terreni che sono al di fuori del Comune di Milano ebbene a conclusione di questo ragionamento delle prime nove squadre di Serie A sono sette quelle che hanno problematiche simili per la realizzazione del proprio impianto di proprietà se noi poi escludiamo il Napoli che al momento non ha palesato alcun interesse e la Juventus che già ce l'ha tutte le altre squadre stanno avendo problemi di realizzazione dimostrazione che molto probabilmente non sono problemi riconducibili alle amministrazioni locali ma va portata la discussione ad un tavolo più centrale quindi a livello di governo per poter cercare una soluzione che possa dare possibilità di riqualificare strutture e quartieri nel centro delle nostre città più importanti d'Italia perché non vengano poi lasciate nello stato di abbandono in cui per esempio oggi versano sia lo stadio Flaminio che lo stadio Artemio Franchi che sono a rischio di collasso e quindi eventualmente di creare anche danni a gente o avventori di passaggio e perché no e anche alle abitazioni che sono intorno un altro argomento che volevo trattare per voltare pagina è il regolamento che verrà cambiato per quanto riguarda la gestione dei recuperi perché la FIGC ha recepito la norma della FIFA che la FIFA ha già applicato nel corso degli ultimi mondiali in Qatar sul recupero e quindi sul gioco effettivo sull'incremento dei minuti effettivi di gioco per quanto riguarda le partite di calcio e quindi aspettiamoci con il prossimo campionato di vedere partite con dei recuperi cospicui che possono arrivare anche a 15 minuti e quindi cercare di prendersi il tempo anche per poter vedere una partita e quindi una partita non sappiamo più quanto potrà durare un'ultima nota che vi volevo fare invece è l'approvazione e questa è importante di una legge da parte del Ministero delle Telecomunicazioni che dà al garante delle comunicazioni l'autorità di poter usufruire degli strumenti messi a disposizione dalla Lega più a Gcom per poter contrastare efficacemente durante i primi 30 minuti di diretta la pirateria informatica e digitale e dare così una mano a Dazzoni e a Sky che hanno lamentato, vi ricordate ne abbiamo già affrontato l'argomento durante il video che ho fatto sui diritti tv hanno lamentato che la pirateria informatica fa perdere alle società un causa, un danno e fa perdere a livello di guadagni circa 300 milioni all'anno e così facendo l'obiettivo del governo della Lega di Serie A e di tutti gli avventi causa è quella di riuscire ad andare nuovamente con una nuova tentativa di vendita all'asta di diritti tv per il quinquennio che parte dal campionato 2024-2025 con l'obiettivo di poter guadagnare 1,5 miliardi di euro per la trasmissione delle partite in Italia su base annuale obiettivo che per il momento l'abbiamo già detto è fallito in quanto una delle problematiche che Dazzoni ha evidenziato e ha sollevato è proprio l'inefficace attività contro la pirateria che il governo italiano è riuscito a mettere in atto che purtroppo causa un down all'azienda e che quindi non può permettersi di alzare l'offerta ecco io ho concluso qui vi ringrazio sempre per tutti i commenti che fate di sostegno, supporto e di affetto a me per quanto riguarda la sezione commenti dove volete eventualmente fare domande avete visto io rispondo sempre a tutti quanti vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di suggerirlo ai vostri amici se vi piacciono gli argomenti che noi proponiamo e di mettere un like ad ogni video perché a voi non costa nulla mentre a Vittorio permette di crescere di diventare uno dei canali di informazione di Lazio e non solo per quanto riguarda il mondo del calcio a voi vi aspetto a tutti dopo le vacanze vi auguro un buon periodo di riposo vi abbraccio a tutti e vi aspetto poi al prossimo approfondimento un ciao da Luca e sempre Forza Lazio ciao